Ok. Di ciao da te mi chiami ragazzi. Ciao. Oggi Giulia Vingotti si esibirà in LA, scritta... Da lui. Da me. E quindi mettiamo subito la base quella un po' più lenta e più dolce, che è al peggio. Pronti? Vai. 12 agosto, io non accorto il buon intorno. Non bagliate, fermi tutti. Non abbiamo messo il tempo giusto. Non ho messo il tempo giusto. No, no, era troppo veloce. Scusa. Era troppo veloce? No. Pronti? Via. 12 agosto, il destino non accorto e poi tu. Passati di lava, qualcosa nasceva qua giù. Ma fuori di ventura, io qui da un mese o poco più. del mare e la notte di stelle. Il fatto ha toccato, del fatto, ma ha vinto il blu. del mare e la notte di stelle. Del mare e la notte di stelle, che stringo forte, se no poi cado in giù. è un'epoca. È un'epoca. È un'epoca. Mondi che girano, io sono lei, è lei, è lei, è lei Fantasmagoricci, i miei pensieri che si rivolgono a lei È lei, è lei, è lei Grazie a tutti 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 Grazie a tutti